Fortino pressato, serve malamente Scarlato, Vita salta Scarlato e prova un pallinetto e si supera Alfieri, grandissima azione di Vita al sedicesimo. Lui si è inserito, ha lasciato sul posto Scarlato, va Borrello e Galletta si devora un gol fatto proprio a un metro dalla porta sul calcio. Guardia, però con la pressione di Vita va Galletta, aggredito Minutolo da Vita e da Galletta perde palla e al ventunesimo di nuovo a Mendola e stavolta stacca Savasta, ma Carlino si fa trovare pronto, quindi Savasta Guini supera in velocità Simone Galletta e prende il palo, palo esterno di Guini dopo aver saltato, bella azione, dal ventisettesimo Scarico su Aloisi, Aloisi e Rudy Aronda riesce Fotti in un primo momento a mandare la palla fuori, strepitosa parata di Carlino al trentaquattresimo, Carlino si supera.